E' sempre il ragazzino. Dammelo! Che cosa è? E' la cocarda che mettono agli asini nei cortei noziali. Oh, dovevo immaginarlo che era uno scherzo. Qui parla Prodo 2. Va bene, Angelo. Vengo subito. Eccomi qua. Eppure l'acqua era buona. Ce ne hai messo di tempo ad arrivare. Che cosa è successo? Niente, sta benissimo. Ho dovuto maltrattarlo un po' per sapere quello che ci interessava. Ma adesso però tutto è a posto. Ma è morto? Ma no, sta benissimo. Ma mi hai preso per scemo. Ti dico che è morto. Guarda qui. È addirittura freddo e mi dici che sta bene. Ma sì, un po' morto lo è. E adesso che facciamo? Che facciamo? Oh, Jeff, non facciamola tanto lunga. Ti sei rivolto a me perché sono un esperto di gran fama. Te lo ricordi? Ora ti dico cosa dovrai fare tu. Ma è morto! Devi andare all'hotel Mediterraneo. Tu devi andare all'hotel... Tu sei pazzo! Sei pazzo! Che c'è? Ti rifiuti di collaborare? Non minacciare. Ma io non ti minaccio. Ti dico solo che una parte del lavoro tocca... Eravamo d'accordo che la parte sporta dal lavoro era fare tu. E io l'ho fatta e so anche dov'è il testamento adesso. Ma io non posso andare all'hotel Mediterraneo e invece tu sì.